Alleluia, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. La benedizione dal cielo, dal cielo, dal cielo, dal cielo, dal cielo, dal cielo. Dal cielo, 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 dal cielo. Dal cielo, dal cielo. Dal cielo, dal cielo, dal cielo scende la benedizione, dal cielo, dal cielo, dal cielo, dal cielo. Dal cielo, dal cielo, dal cielo, dal cielo, dal cielo. Amen. Accomodatevi. Alleluia. Allora, dice, scrive l'Apostolo Pietro, per lo Spirito Santo, nella seconda lettera, al versetto 3. Poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati. Per la propria gloria e virtù. E per le quali egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Dice, in questo passo, dice, dice in questo passo qualcosa di fondamentale. Dice che noi, egli ci ha donato, il Signore ci ha donato, tutte le cose che appartengono alla vita, tutto. E alla pietà mediante, guardate come noi riceviamo tutto ciò che appartiene alla vita, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati. Ci sta dicendo che mediante la conoscenza, mediante la rivelazione di Cristo nella nostra vita, noi riceviamo la vita. Cioè, vedi quanto è importante ricevere conoscenza, rivelazione? Non una conoscenza, come dire, nozionale, di nozione, ma una conoscenza rivelazione, cioè la sua parola che si rivela a noi, egli che si rivela. E man mano che egli si rivela, noi riceviamo la sua vita. Lode Gesù Cristo. Cioè, riceviamo i suoi doni, riceviamo la vita, rileggiamo. La sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati. Non so se stiamo comprendendo, ma la conoscenza di Cristo, l'approfondimento, la rivelazione che noi abbiamo giorno dopo giorno, ci apre la vita, ci fa ricevere la vita. C'è una conoscenza. Conoscere Cristo giorno dopo giorno, ricevere le sue rivelazioni, la sua volontà rivelata in noi, per noi è vita. è vita, è il dono della vita. Che cos'è la vita? Perché mi sembra che è un concetto che... La vita... è il contrario della morte. Cioè, egli... trasmette la vita, significa... attiva la vita. attiva quel processo di vita in noi. Vivifica. Ci vivifica. Prende ciò che è morto e vivifica. Egli vivifica... vivifica l'anima nostra. Lo spirito nostro. E anche il corpo. Cioè, noi veniamo toccati dalla vita. Questo significa... Cioè, essere toccati dalla vita. Noi quando veniamo alla sua presenza... Noi sappiamo che... per molte malattie... Oggi ci sono delle terapie, no? Dove... Alla presenza di... alcuni raggi... per distruggere ciò che è negativo. Lo sappiamo, questo lo conosciamo tutti. ci sta dicendo qua che... quando noi siamo... esposti alla vita... e riceviamo... conoscenza... mediante la conoscenza... noi veniamo... riempiti... e attivati nella vita. Cioè, questa sera... noi siamo toccati dalla vita. Ognuno di noi. A meno che tu... dice... no... sono qua ma non sono qua. Stacca la spina e dice... sono a Marte. Sono qua fisicamente... però... sto... sono... in un altro posto. Però se... abbiamo... il minimo di coscienza... di fede... riconoscendo che gli è presente... che è in mezzo a noi. Se abbiamo questo minimo... il minimo della fede... è credere che gli è il Signore. L'iddio nostro... è il remuneratore della nostra fede. Questo è il minimo. Se hai questo minimo di fede... ecco... tu ricevi. Stiamo ricevendo. Stiamo ricevendo vita. Veniamo toccati dalla vita. Dallo spirito della vita. Che passa su ognuno di noi. su ognuno che ascolta... che è presente... che crede. Cioè la fede ci fa... ci rende partecipe della vita. E tutto ciò che è negativo viene... questa sera viene toccato... viene trasformato. Viene penenziato. e perché... alla sua presenza... tutto ciò che è negativo... viene alla luce... Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Viene toccato dalla luce. Dalla vita. per le quale egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse. Onde... per loro mezzo... voi foste fatti partecipi... della natura divina... dopo essere fuggiti dalla corruzione... che è nel mondo... per via della concupiscenza. L'odo è Gesù Cristo. L'odo è Gesù Cristo. Egli... questa sera... ci vuole rendere partecipe della vita... delle sue promesse. e la sua parola è vita per noi. Ecco... veniamo attivati nella vita... in quel processo... in quel processo di vita... dove... veniamo... vivificati. Questa sera... egli è presente... e la sua parola è presente in mezzo a noi. E la sua parola... ci vivifica. L'odo è Gesù Cristo. È una cosa incredibile. È sovrannaturale. Non è naturale. La sua presenza che vivifica. Che è libera. Che è sana. Quindi... man mano che noi conosciamo... Cristo... veniamo... alla conoscenza... ci apre più vita. Ci rende partecipe delle promesse di vita. Quando la vita ci tocca... si sente, fratelli... io questa sera... sento che sono toccato dalla vita. come dire... si sente... tu senti... la vita che è in mezzo a noi. Senti che ti tocca... e ti vivifica. Senti che la sua parola... è vita. Si sente. Noi l'avvertiamo. Noi l'avvertiamo. qua ci dà un consiglio... per ottenere in maniera... come dire... le sue promesse. dice... dopo essere fuggiti... dalla corruzione. Ci dice sempre... guardate... in tutto quello che noi leggiamo... ascoltiamo... lo Spirito Santo... ci dice sempre... che noi dobbiamo... evitare... fuggire... stasera ci dice di evitare... di fuggire... la corruzione. Ognuno di noi sa cosa significa... è una parola che... sui vari aspetti... noi sappiamo che significa... conosciamo che significa... conosciamo che significa... dopo essere fuggiti... dalla corruzione... che è nel mondo... cioè... lo Spirito del mondo... corrompe... guarda che dice qua... vi ricordate... quella predicazione dove... noi... esposti allo Spirito del mondo... veniamo... toccati dalla corruzione. ecco... l'uomo... toccato dalla corruzione... non è stato toccato dalla morte... non vive un tempo... il suo corpo fisico... e poi muore... lo Spirito del mondo... ci espone alla morte... è un'esposizione alla morte... se noi... ragionassimo su certe cose... che cos'è il... il mondo... lo Spirito del mondo... è tutto ciò che è dominato... che non è dominato... dal Signore Gesù Cristo... dove non c'è il dominio di Cristo... c'è l'ordine di Cristo... è mondo... anche quando noi... nella nostra... vita... nella nostra famiglia... portiamo avanti... delle decisioni... che non sono... in ordine... con la... la santa parola... tu stai attivando... e sei sotto l'ordine... del mondo... cioè... il mondo dice... dov'è... non è che... devi fisicamente... andare fuori... può essere dentro di te... è in noi... quell'attivazione del mondo... cioè... quella natura carnale... che attiva quello Spirito... pure... non è che è fuori... dice... non vado... mi fratello... ma il pastore... ce l'ha con me... perché vado in via Marina... no... io sto predicando... sulla... attraverso le scritture... e dice... alcune cose... lo Spirito del mondo... non è... lontano... ma può essere attivato... dalla nostra... fede... nel mondo... cioè... dalla mancanza di fede... in Cristo... e noi attiviamo... quando noi facciamo cose... che non sono in ordine di Dio... quello è il mondo... e c'è la corruzione... vedi... lo Spirito del mondo... corrompe... c'è corruzione... ci fa cadere... e utilizza... le concupiscenze... i desideri... c'è un... l'ultimo... comandamento... no... pochi se lo ricordano... sapete... non desiderare... non desiderare... le cose degli altri... la roba degli altri... la moglie degli altri... le cose degli altri... non desiderare... non desiderare... non desiderare... non desiderare... dove che... il serpente... agì... con Eva... gli fece diventare desiderabile... il frutto... il frutto di quell'albero... che non doveva mangiare... guarda che è buono... che è buono... che è Dio... non ti vuole dare quello che è buono per te... è buono... Dio è... egoista... perché poi tu diventi come Dio... e non vuole Dio... e gliel'ha fatto diventare desiderabile... ecco perché... dice... noi dobbiamo vivere secondo la carne... per ottemperare a tutti i desideri della carne... alle concupiscenze... alle passioni... eccetera... cioè dobbiamo resistere per vincere... l'odo di Gesù Cristo... ma non è la... cioè non è... dice... fuori dal cancello... il mondo... dico... il mondo può essere attivato... da noi... attivando... la nostra... autonomia... decisionale... contraria... all'ordine di Dio... quello è il mondo... dice no... io... Dio dice... ma io... penso che è giusto così... facciamo così... non sei sotto l'ordine di Dio... quando uno non è sotto l'ordine di Dio... è sotto il mondo... e si attiva... il processo di morte... il processo di maledizione... il processo di andare... a male... le cose vanno male... dice... ma perché le cose vanno male... no... io ho riflettuto su queste cose... dice... perché vanno male... perché vanno male... perché... si cammina... si attiva... lo spirito... che produce questo... se noi camminiamo... dice... per lo spirito... dice... voi vivrete... attiverete... tutto ciò che è vita... è benedizione... quando... ci succede qualcosa di negativo... noi dovremmo... inveire verso... questo... quello... e quell'altro... io infatti... quando... vedo che... qualcosa di... qualche problema... in mezzo a noi... sto cercando di... insegnarlo a tutti... di verificare... noi... come... ci stiamo comportando... dobbiamo noi verificare... se... le nostre azioni... sono secondo lo spirito... o sono carnali... noi abbiamo anche attività... il regno di Dio... il sistema nostro che... ha varie attività... se non è retto... dallo spirito di Dio... dalle cose che noi facciamo... le cose crolleranno... si distruggeranno... dureranno un tempo... no? come le attività del mondo... se sono rette dall'economia... quando... ci sarà la crisi economica... muoiono... ma se sono rette... dallo spirito di Dio... cioè... dall'indirizzo di Dio... sottomesso... per miracolo... andranno avanti... per miracolo... perché... l'ha stabilito il Signore... perché il Signore ha detto... voi vivrete... basta... cioè... io sono per voi... fratelli... voi vivrete... siamo attivati nella vita... quindi... quindi... che cosa noi ci dobbiamo preoccupare? io non è che mi preoccupo... io... prego per il governo... per... dice... pregate per i vostri governanti... eccetera... io prego... dico... ma non mi preoccupo... di che colore è... di chi è... io dico... Signore... se Tu sei per noi... o Cesare... o... o Cesare Pasquale... o Cesare Antonio... sempre Cesare... dico... per me è Cesare sempre... non è che... cambia nome... ma lo spirito è... è quello... ma la benedizione... la protezione... viene da te... Signore... capite? l'odo a Gesù Cristo... questa è molto importante... no? perché è importante... perché anche... i nostri fratelli... impegnati nell'attività... noi dobbiamo fare... nelle cose che facciamo... dobbiamo attivare... dobbiamo fare le cose... con lo spirito di Dio... seguendo... la via dello spirito... non seguendo... il comportamento... del mondo... alleluia... glorie... Gesù Cristo... se noi onoriamo il Signore... Dio ci onora... tu onora il Signore... nella tua vita... vedi se il Signore ti onora... se tu ubbidisci alla Sua parola... vedi se tu avrai i frutti... dell'ubbidienza... non è Egli detto... se tu sei disposto a ubbidire... mangerai... i migliori frutti del paese... l'ha detto lui... ubbidisci... vuoi vedere che... mangerai frutta... mangerai... i migliori frutti del paese... e non è solo frutta... frutta e verdure... tutto... tutto ciò che è il frutto... sarà anche per te... l'ode Gesù Cristo... vedi nell'Evangelo... quante... è la conoscenza... la conoscenza... di Dio... la conoscenza... ci fa entrare nelle promesse... e la conoscenza... ci fa entrare nella vita... questa conoscenza è vita per noi... non è... è vita... noi conoscendo... entriamo nella vita... noi sapendo queste cose... abbiamo la via della vita... l'ode Gesù Cristo... e voi per questa stessa ragione... mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura... ci sta dicendo... in questo passo che a volte è scritto in questa maniera arcaica... si capisce poco... ma... quando noi siamo... che vogliamo tutto subito... e senza fare nulla... questa parte... non la capiamo... io l'altro giorno sono andato in un ufficio... con Maurizio... e... gli ho presentato un documento... e questo mi diceva... prende questo documento e mi fa... per dire no... e ma qua c'è un protocollo senza data... scusate... se voi leggete prima... c'è una data... che riferite al protocollo... no... ma io non posso leggere... ve la leggo io... no... 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 non posso ascoltare... cioè... quando noi siamo predisposti... che non vogliamo sentire... non vogliamo fare... eh... è come dire... qua è scritto... qua è scritto... che dal... mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura... che... che alcuno dice... non capisco... vado avanti... significa... che dipende... da me... da te... da quello che noi mettiamo... dall'impegno che noi ci mettiamo... nelle cose di Dio... se tu vuoi ricevere le promesse della vita... e vuoi essere partecipe della vita... cioè la vita sia in te... nella tua casa... ti devi impegnare tu... cioè ci dobbiamo impegnare noi... dobbiamo mettere... dice... ogni premura... io no... ma io ho creduto... mi sono battezzato... pastore... eh... ma qua... dove sono... è come quello no... che... ha pensione... dice... ma devi lavorare per... per vivere... no... mi sono battezzato... pastore... a pensione... no... per dire no... dove... dove sono... i... i regali... qua dice che... bisogna mettere... tutta la nostra premura... significa... tutto il nostro impegno... cioè... la nostra... la nostra... maggiore premura... per capire... cioè... tu vuoi... entrare nella vita... vuoi i doni di vita... vuoi la benedizione nella tua vita... vuoi che la tua vita cambi... sì o no? Amen... e allora devi mettere... tutta la tua premura... tutto il tuo impegno... per conoscere... per ricevere... da Dio... la rivelazione... che è vita per te... per me... per noi... e questo è frutto... l'ha acquistato Gesù... meglio ce lo dà... se noi lo vogliamo... se tu... è un dono... che viene dato... a coloro che lo desiderano... però la prima cosa che dice qua... che devi fare è... devi... fuggire... la concupiscenza... fuggire... la corruzione... cioè devi cercare... nella tua vita... di... cambiare strada... root... bisogna... sulla... sulla mappa della vita... mettere l'obiettivo... Cristo... dice... voglio essere condotto... da Cristo... l'odo a Gesù Cristo... che è diverso... da essere condotto... come prima... dice... nel vano modo di vivere... è diverso... dice... ma è difficile... la storia... ma come ho fatto... come ho fatto... come faccio... eh... tu pensi che è difficile... certo... per la natura carnale... è impossibile... dice... non è possibile... cioè... la verità è che... se... se tu... ti fai condurre... dalla natura carnale... è impossibile... cioè... non è possibile... la natura carnale... non può obbedire... non può fare la volontà di Dio... niente... non è possibile... però... per quella dello Spirito... sì... perché... egli... ha acquistato... per noi... il suo Spirito... il dono di Dio... ad ognuno di noi... sapevi questo? ognuno di noi... egli ci... rende partecipi... del suo Spirito... egli ci fa questo dono... meraviglioso... lo Spirito Santo... e attraverso il suo Spirito... noi possiamo... fare la sua volontà... e sai dove interviene? dove c'è una richiesta... dice... signore... qua... io voglio lo Spirito Santo... se c'è una richiesta... dice... io... Spirito Santo... Spirito Santo... più Spirito Santo... più Spirito Santo... dice... ma io non sopporto... no... sono impaziente... ho bisogno di Spirito Santo... e tu chiedilo... chiedilo... e Dio interviene... non ce la faccio... non ce la fa... non se può... non esiste... il non si può... non è possibile... in Cristo... tutto dice... è possibile... a chi crede... vedi che... la fede è qualcosa di diverso... dalla natura umana... dice... no... la natura umana... c'è limite... è limitata... noi sappiamo che... ci sono i limiti... questo non lo posso... quello non è... questo... c'è un limite a ogni cosa... in Cristo... noi possiamo tutto... pienamente... è la promessa di Dio... fratelli... io ci credo... e... lui ci può fare fare... in Cristo... le cose sue... al dirà di quello che noi pensiamo... per esempio... tu vuoi perdonare... vuoi avere pazienza... vuoi sopportare... vuoi cambiare... quando io gli dico... Signore... io... non ce la faccio... interviene lui... Spirito Santo... interviene tu... perché... aiutami... io conosco... i limiti... e dico... in molte cose... che dove... soprattutto dove... sono zero... no... io vedo... l'opera... grandiosa di Dio... perché... tu ti rendi conto... che è puro Spirito Santo... l'ode... Gesù Cristo... perché... non facciamo... questa esperienza... lo Spirito di Dio... con noi... che vuole cambiare... la nostra vita... vuole cambiare... la tua vita... la tua famiglia... l'ode... Gesù Cristo... ti vuole rendere... sovrannaturale... l'ode... Gesù Cristo... e gli vuole benedire... la benedizione... è qualcosa... che appartiene a Dio... appartiene a Cristo... ed egli... la vuole dare... ad ognuno di noi... dice... ma noi... la possiamo attivare... si attiva... la benedizione... si attiva... fratello... io questo ho capito... avete capito... pure voi... questa cosa... o è... un mio... convincimento... eh... c'è la benedizione... dipende da noi... l'attiviamo noi... è come... quando entri in una stanza... dice... e apri la luce... dice... dipende da te... se vuoi stare al buio... con la luce... io accendo la luce... perché non voglio cadere... non voglio trovare... qualche buco... dipende... dipende... tu vuoi vivere bene... nella vita... nel processo di vita... sì o no... sì... sì... e... come dire... in... lo dico in dialetto... poi a Milano... non mi comprendono... a Duma... accendi... lo storzo... a Duma... lo storzo... cioè... dipende da te... dipende da me... vivere... questo... attivare questo... intorno a noi... l'attiviamo noi... la benedizione... cioè... oh... ma il Signore è mio... tu non sai... quando... no... senti la testimonianza... si attiva però... tutto male... tutto male... male... perché... ti sei dimenticato... o qualcuno... non ti fa vedere... che c'è l'interruttore... cioè dipende da te... perché... viene quello... e ti dice... male... e il Signore... questa sera... ci sta illuminando... e ci sta dicendo... vedi che... c'è lo storzo... c'è l'interruttore... l'interruttore ce l'hai in mano tu... è la tua decisione... siamo noi... se vogliamo che le cose cambiano... nella nostra vita e intorno a noi... dipende da noi... fratelli... io voglio sentire... testimonianze... di benedizione... del Regno di Dio... perché il Regno di Dio... Gesù l'ha portato per noi... dovremmo ognuno di noi... portare la nostra... testimonianza di fede... meraviglioso... ognuno di noi... deve avere... il suo... come dire... pocket... miracle... tutti... se tu attivi questo... se noi lo attiviamo... ognuno di noi... può raccontare... le opere... grandiose del Signore... le vuoi raccontare... le vuoi vivere... innanzitutto... non è che... uno... le vuole per... per raccontare... perché ha bisogno... io voglio vivere la vita... tu la vuoi vivere la vita... e allora... attiviamo il processo di vita... si attiva il processo di vita... voi vivrete... se camminate per lo Spirito... se cercate le cose dello Spirito... cioè... quelle cose che... che noi stiamo attivando... per il regno di Dio... innanzitutto... le cose... che Egli ci ha... ci ha comandato... che ci comanda... quello... nel rapporto con Lui... il primo comandamento... è ama il Dio tuo... con tutto il tuo cuore... no... cioè un solo Dio... solo a Lui rende il culto... vero? vero è... però vedi che cosa... io l'altra sera... predicando... il Signore mi ha fatto vedere... come la condizione carnale... inficia poi... cambia anche... questi comandamenti... tu vedi... il primo comandamento... dice... ama il Signore Dio tuo... con tutto il tuo cuore... e poi... sai... la condizione... carnale... di quelli che credono... che credono... carnale sono quelli che credono... se no sarebbero già morti... dice... dice... ma... a mamma... un figlio... e a mamma... e il papà... e il nonno... gli zii... e i nipoti... i fratelli... i nipoti... dove li mettiamo? poi... per giungere ai pronipoti... e su queste cose... noi sappiamo... hanno fatto trattati... non è che sto attaccando... sto dicendo... com'è che si giunge... cioè... io da quel capitolo 8... ho capito molte cose... 8 di Romagna... che la condizione spirituale... dei cristiani... di coloro che credono... dei credenti... determina anche... le dottrine... le tradizioni... eccetera... eccetera... la condizione di fede... di spirito... l'odio a Gesù Cristo... il secondo comandamento... dice... non ti fare immagini... sculture delle cose... lassù nel cielo... là sotto... sulla terra... negli abissi... non ti prostrare... a fare l'immagine di Dio... non è peccato... è Dio... fare l'immagine di Cristo... non è peccato... è Cristo... figurati se tu... l'immagine di Cristo pecchi... che cosa è successo... quando... 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 Mosè andò... sul monte... e rimase... a Ronne... il popolo scaduto... nella fede... che fece... l'idolo... dice... ma noi... non vediamo... abbiamo bisogno di vedere... è vero o no? dice... Mosè non c'è... che scomparirò tutti... eh... è così... perché... noi... Mosè ci parlava... ci alimentava nella fede... ora... qua... Aronne... facci qualcosa da vedere... così... così... è nato dalla natura spirituale... e lui... grande genio... dice... tantemi tutto l'oro che avete... e fece il vitello d'oro... capite come... la deviazione... le devianze... da che cosa? dalla condizione spirituale... carnal... cioè... che cosa... ci fa vedere lo Spirito Santo? cosa ci fa vedere? che se noi curiamo... l'anima nostra... il nostro spirito... la condizione spirituale con Dio... tutto il resto... si sistema... l'oro di Gesù Cristo... io per esempio... io non c'è bisogno che vi dicano... se io... voi non sapevate chi ero... venivo qua a predicare... e se era la prima volta... man mano che uno si accende nella fede... crescendo nel rapporto con Dio... poi uno... riesce a vedere i tratti del regno di Dio... i limiti del regno di Dio... riesce a riconoscere anche gli elementi del regno di Dio... quindi... io senza dire qualcosa su di me... o... gli anziani... eccetera... chi ama il Signore con tutto il suo cuore... entra in una condizione spirituale... di comunione... riconosce gli elementi del regno... riconosce... i ministeri... riconosce il mandato... chi è che non riconosce il mandato? sapete chi è? chi è... che è scaduto in quanto alla fede... che vive in una condizione spirituale... diversa da quello dello spirito... sempre cristiani... stiamo parlando sempre di cristiani... di coloro che... hanno accettato Gesù... sono stati battezzati... non riconoscono... perdono i tratti del regno... non riconoscono... perché la condizione spirituale... Aronne... facci un vitello... facci vedere... perché abbiamo bisogno di vedere... capite? non so se... questa sera abbiamo capito qualcosa... quanto è importante... la cura spirituale dell'anima nostra... quanto è importante... che noi curiamo la nostra vita... stai curando il tuo cuore... la tua vita... l'anima tua... stai pregando al Signore... non solo... nella preghiera... stai confessando i tuoi errori... salmo 32... al versetto 5... io... ti ho dichiarato il mio peccato... eh... il salmista... che parla col Signore... l'anima che parla a Dio... dice... a chi dobbiamo confessare? l'anima che parla a Dio... non ho coperto la mia iniquità... io ho detto... confesserò le mie trasgressioni all'Eterno... e tu... hai perdonato l'iniquità del mio peccato... l'ode a Gesù Cristo... vedi... questa... per noi cristiani... è di vitale importanza... non c'è il confessionale qua con... il parroco... che... che prende... le confessioni... perché... la scrittura ci dice... che noi dobbiamo confessare a Dio... i nostri peccati... e qua... il salmista... Davide dice... io confesserò le mie trasgressioni all'Eterno... e poi... dopo la confessione... dice... tu... hai perdonato... l'inequità del mio peccato... io ti ho dichiarato il mio peccato... e non ho coperto la mia iniquità... cioè... nel rapporto con Dio... vedi... curare la propria vita spirituale... è questa... dire al Signore... Signore... avere un tempo nostro con Dio... confessare i nostri peccati... gloria... gloria... questa è una cosa... importante... è uno di quei principi... cardine... per non essere... toccati... dalla contaminazione... se no... il peccato che abita dentro di noi... guarda che cosa avviene... versetto 3... perché... in questo Salmo ci dice... anche le condizioni di coloro che... non confessano... dice... mentre io mi sono taciuto... le mie ossa si sono consumate... per il ruggire... che io facevo tutto il giorno... poiché giorno e notte... la tua mano si aggravava su di me... il mio succo vitale si era mutato... come per assura d'estate... quando... quale condizione... quando... uno... non confessa... il proprio peccato... se lo tiene... il peccato... la trasgressione... che noi teniamo dentro... che... nascondiamo... significa... che noi... teniamo celati dentro... dice... ci consumano... diventano... un tarlo... consumante... per la nostra vita... sai che cos'è il consumo all'uomo? adesso... è vero... dai... chi riesce a confessare che è vero quello che è scritto? è vero quello che ho predicato? eh... dopo che vi ho detto che è vero quello che è scritto... è vero... quando noi confessiamo... quello che non confessiamo... ci consuma... ci... consuma... confesserò... le mie trasgressioni all'Eterno... e tu... hai perdonato l'iniquità del mio peccato... poi guarda che dice all'inizio... noi andiamo al ritroso... beato colui... la cui trasgressione è rimessa... c'è... significa... tu vuoi essere felice... vuoi stare bene... vuoi trovare... come dire... il livello... ottimale... di benessere... di pace... di gioia... eh... beatitudine significa questo... chi lo vuole questo? tutti... io pure... pure me... dice... beato è colui la cui trasgressione è rimessa... cioè... noi... quando andiamo fuori... nelle vacanze... cerchiamo i centri benessere... dice... con Peppe... quando andiamo in qualche posto... lui a un certo punto... sparisce... e va a vedere se... l'hotel... c'è il centro benessere... quando non c'è... è a caccia del bene... e il Signore... vuole il nostro benessere... non è giusto... quando noi andiamo fuori... cerchiamo proprio... perché... il clou... ma il clou della nostra vita... cioè... stare... nel bene... nel benessere... significa... la beatitudine... significa... uno stato psicofisico... meraviglioso... eh... lo cercano tutti... pure... eh... i più ricchi del mondo... solo che pensano che... infatti cercano... i benesseri... quelli superiori alle 5 stelle... e quindi non sono mai soddisfatti... perché se le sono fatti tutte... ma se tu vuoi... il vero benessere... per la tua vita... e fare la sua volontà... e seguire il suo consiglio... confessare i propri peccati... dice... beato colui la cui trasgressione è rimessa... e il cui peccato è coperto... perché quando noi lo confessiamo... non solo... il peccato viene coperto... non che... cioè... Dio lo copre... copre le nostre malefatte... cioè ti rendi conto... non solo... quando noi confessiamo... entriamo in questo stato... ma... le cose negative vengono... coperte... l'ode a Gesù Cristo... che meraviglia... io trovo consolazione... io questa sera... mi sono consolato... alziamoci in piedi... alleluia... gloria a Gesù Cristo... gloria a Gesù Cristo... amen... noi abbiamo ricevuto... l'indirizzo... che produce vita... alla nostra vita... noi vogliamo la beatitudine... trovare il senso... il vero senso del benessere... della pace... della gioia... ecco... significa... fare... la sua... volontà... l'ode a Gesù Cristo... amen... amen... volevo ricordarvi... domenica... abbiamo un culto... di mattina... e poi un agape... l'ode a Gesù Cristo... preghiamo... che senti a voi pregare... che senti a voi pregare... grazie... grazie... per questa parola... che ci hai mandato... in attigaggio... attraverso... il culto della mia chiesa... in attraverso... guardare... ho... io ho... lui... il porto della mia chiesa...